Fox, 24 a 20 per Modena, va in battuta e finisce la partita. Fortuna, sicuramente c'è una componente di fortuna, c'è una componente comunque che siamo una grande squadra perché comunque sicuramente io ho fatto delle grandi battute, però insomma Simone ha preso due muri quindi significa che non è stata proprio totalmente fortuna. Siamo stati bravi perché i primi dei set abbiamo giocato alla grande, non abbiamo fatto giocare Modena poi dopo un po' la nostra stanchezza, un po' loro hanno iniziato a ricevere bene, a sviluppare meglio il gioco e siamo andati in grossa difficoltà. È andata bene, è fortuna, però insomma ripeto siamo bravi. Non solo fortuna, Monti aveva detto che secondo me sarà un problema anche a livello mentale dopo quello che avevate sprecato diciamo come energie mentali nella partita con Macerata e soprattutto in vista anche poi della partita di Coppa Italia con Vivo. No, ma abbiamo fatto due set a grandissima intensità come abbiamo fatto contro Macerata. Poi ripeto, dopo sicuramente la stanchezza era un fattore fondamentale e ci hanno recuperato tutto qua.